Vuoi instaurare una nuova, buona e sana abitudine, ma dopo un po' la tua forza di volontà ti sta abbandonando? La nostra vita è il risultato delle scelte che compiamo giorno dopo giorno, ma la maggior parte di queste scelte avviene in maniera inconscia, cioè neppure ce ne rendiamo conto. Come puoi quindi portare avanti una scelta che ti faccia bene, una scelta salutare, senza dover far conto sempre solo sulla tua forza di volontà? Prepara l'ambiente attorno a te. Se vuoi smettere di mangiare solo schifezze, non comprare neppure al supermercato. Vuoi bere più acqua durante la giornata? Tieni una bottiglia di acqua sempre a tua disposizione sulla scrivania. Ti distrai facilmente con il cellulare per le notifiche o perché scorri i feed dei social media? Prendi il cellulare e mettilo in un'altra stanza. Ti verrà la tentazione di prendere il cellulare per andare a scorrere il feed, dovrai alzarti e andare in un'altra stanza. E già questo ti darà il tempo per cambiare idea e prendere la giusta decisione.